ok ci sono da costa quel carburante in lombardia altro che spagna sono rimasto senza catena sto pedalando senza catena come potete vedere come non potete vedere vabbè ragazzi questa non è benzina non è il gasolio il gasolio possa gpl per i camionisti qua e quindi quel prezzo lì non era purtroppo non è la benzina non è il diesel è quello che pagano cdc lng po i camionisti poi qua una volta ci hanno fatto una una bella una bella stazione per le bici elettriche ma non ci sono mai state le bici elettriche saranno anni che così è e te o che puoi ricaricare ecco spazio ma che funziona ciclostrazione bike sharing adesso non mi guarda senza batteria 10 per cento vedete bici elettriche qua voi ok va bene dai che felicità vedete perché io non sono in giro noi non siamo in giro perché noi non siamo in giro a vendere tappeti noi vediamo pizza al servizio commettere doppio fallo su match point e c'era lo 0,000 mila 200 mila lire per cento ma lui ha fatto di probabilità di fare il match doppio fallo su match point ma non siamo in giro vendere tappeti saluto da sbandiera torino tommasi e niente abbiamo a piedi a casa ormai mancano due minuti questo però un video che faccio parte corto ironico per prendere in giro quelli dei prezzi della benzina ma ci sono tanto di siti su internet dove vedere i prezzi di benzina dobbiamo andare su internet ciao tutto a buio qua